Il mondo si pone una domanda Perché ho attaccato gli Stati Uniti? Per più di un secolo gli Stati Uniti hanno tenuto il mondo in un perenne stato di conflitto Più e più volte abbiamo visto gli esiti catastrofici di queste politiche militariste e belligeranti Queste guerre non hanno mai portato alla pace Queste guerre hanno soltanto alimentato altre guerre Gli Stati Uniti hanno dettato la linea solo perché erano i più forti Ma ora non è più così Non è l'inizio di una guerra Ma la fine di tutte le guerre Dopo San Francisco il mondo libero si era rivoltato contro Atlas Iron si era chiuso nella sua base di New Baghdad Tagliando qualsiasi contatto Entrambe le parti sapevano che cosa aspettarsi Dovevamo volare con la 37esima avio trasportata nella fase iniziale dell'assalto Per poi separarci e infiltrarci nel centro di comando di Atlas per prendere Irons Per Cormac era la fine di un viaggio Un giorno che aspettava da cinque anni Cambio di programma Dovrete spostarvi da nord-est e coprire la squadra blu mentre sorvola il bersaglio Ricevuto Credo avremo vita fa Fossi in te aspetterei a dirlo Non mi giocherò tutte le carte in una volta Avremo un solo tentativo per catturarlo Sarà sufficiente Lo so E non provate a morire Non prima di aver trascinato Irons davanti a Laia Non vedo l'ora signore Ok, buona fortuna Non c'era altro da dire Sapevamo che cosa andava fatto Era l'inizio della fine Almeno per uno di noi Sentinel 2-1 verso APC Romeo Victor Naut 5.000 piedi Ricevuto Mantenere volo radente fino a New Baghdad Kimping chiudo Unità Sentinel Ascoltate Ingaggiare chiunque sia privo di segnale Sentinel Rennimici in pista Ore 12 in base Cominciamo a fare chiudere Uno in meno Imposcata Direzione 3-1-5 Mi puntano Michel, occhio alle ali Occhio ai trascanti Distronto Attenzione ai detriti Grazie per la copertura Mi hai salvato Mi arrivano altri dal crinale Ore 2 A battere Peccato Occhio ai trascanti Tempare volo Pertivo del vuoto Hilo 5-9 Distronto Bersaglio distrutto Contraerea Dai basso Usa il blower per passare Troni parati davanti L'attacco Quattro pericoli In inserimento Ore 12 Fuoco a voluta Michel Resta nella gola Ricevuto Michel Resta a meno di 2.000 Il supporto aereo Resta in zona Ottimo Ormette voli per travi E vediamo la spiglia A sinistra Dietro di che è missa La punta Avanti Occhio ai massi Qualcato posto Dietro di che è missa Distronto Bersaglio distrutto Diga idroelettrica in vista Punta per i supporti E colpisceli con i missili E aiuto in coda Michel Dietro di te Michel Non c'è a tutte Detrici Manovra evasive Supero ACP5 Ore 12 Quattro in rotta di collisione E' mio C'è l'occo Tornano indietro Ore 6 In acqua Ottimo Peccato Distrutto Avvicinati E apri il fuoco Attenzione ai detriti Ok 3 4 Ingrito elettrica in vista Arrivo Sono Merda Comando Qui Sentinel 01 In avvicinamento A New Baghdad Ricevuto 01 Difesa aeree nemiche A 1,5 km Avvio Sequenza Di lancio Pilota Automatico Inserito Lancio Riuscito 1200 Metri Al bersaglio Riduzione Emissioni Energetiche Entriamo In modalità Furtiva Ricevuto 01 Siete Invisibili 2-1 Direzione 3-1-5 A quota 2400 Versaglio A 2 Miglia Nautiche Di distanza Passo Connessione Alla rete Del campo Di battaglia Il bersaglio Principale È il centro Di comando Da cui Irons Dirige Le operazioni Di Atlas La città È difesa Da una serie Di torrette Antiaeree Vanno distrutte O possiamo Scordarci Il centro Di comando 200 metri Al bersaglio Scollegare E prepararsi All'atterraggio Scendiamo Tenetevi forte Decelerazione Occhio L'obiettivo Drisco davanti a noi! David, avanziamo verso l'obiettivo! Drisco Luto, vi mando altre due squadre! Comando, senti nel 2-1 attua! Deviamo a rinforzare le linee nemiche per supportare il 95esimo! Drisco Luto, vi mando altre due squadre! David, siamo in posizione all'obiettivo! Eliminiamo le torrette! Ricevuto, con piedi di sottofondo! 2-1, qui si fanno secchi! Neutralizzate le torrette! Muoverci! Togliamo di mezzo quelle strumenti! Destruzza! Bene, mince! Ma non è finita! Contatto! Terzo piano dell'obiettivo! La vedo! Sì, ministro! Contatto! Terzo piano dell'obiettivo! Eccola! Amore su novent! Secondo piano! Un'altra torrette attiva! Su novent! Portiamola! Quanti non qui si fanno secchi! Neutralizzate le torrette! Contatto! Quanti non qui si fanno secchi! Contatto! Questo è ilmiyor! Multi commentato! Toglie! Contatto! Contatto! Ore alno! Oh! Ok, lo vedo! Via, Athena 6! Contatto! Tocco! Movimento! Ritato! Ritato! Inghigno in giro! Contatto nemici in multipli al grande palazzo di vetro. Quadrante due, due, uno, tre. Ritato di carriera inizio all'ingaggio. Ricevuto. Passo. Roger. Artemis 2-1. Pianche autorizzato. Ricevuto, Olympus. Affermativo, scusate. Bersaglio Oves del palazzo Alzani-Painaster. AST Multi-Pietra. Tre mezzi pesanti. AST! Avanzare! Unità MEX pesanti in avvicinamento. Distruggetele. Distruggiamoli! Unità MEX pesanti in avvicinamento. Distruggetele. Destruggiamoli! Avanziamo verso il centro operativo. Unità MEC pesante in avvicinamento. Distruggetele! Unità MEC pesante in avvicinamento. 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 Mitchell, vai con lui e prendete gli Stinger! Vi copriamo! Via, via, via! Ti copro, Mitchell! Prendi lo Stinger! Mitchell, prendi uno Stinger prima che ci ammazzino! Sciame di droni! Che cazzo fanno? L'ha fatto! Cazzo, l'ha fatto davvero! Che succede? Nox a terra! Serve evacuazione medica immediata! No! È Manticore! Dobbiamo andarcene! Tutti quanti! Su di noi non funziona! Irons l'ha reso inefficace sulle sue truppe! Noi tre siamo stati immunizzati! Fuoco, fuoco!